Molto bene signori, oggi parliamo di meme coin perché sono veramente un qualcosa di folle, sono un qualcosa di veramente incredibile. Ebbene sì, il progetto Zero Two Million tratta decisamente anche le meme coin, tra l'altro voglio farvi solo un piccolo aggiornamento per quanto riguarda Zero Two Million. Abbiamo speso un budget totale di 3.000 dollari e attualmente siamo a 6.000 dollari, manca ancora praticamente un mese e mezzo di challenge. Chiuso parentesi. Detto questo, comunque poi faremo dei video anche alla riguardo con proprio tutto dettagliato, i dati, carta, canta signori. Comunque parliamo appunto di meme coin, soprattutto shit coin. Shit coin sono una baranca delle meme coin ancora più assurde, nel senso che sono proprio quelle più disumane, ok? Sono quelle che non hanno senso, tipo, ve l'ho già detto, Trump scritto con la A, Trump fo, fo, col quattro, presi, cioè proprio delle cose assurde. Addirittura proprio shit, fuck, cioè parolacce, bestemmie di tutto, proprio sono delle cose senza alcun tipo di senso. Non hanno senso, non hanno prospettiva economica, non hanno alcun tipo di logica, ma possono farvi diventare milionari così. Non possono impoverirvi, perché se voi mettete 10 euro, perdete 10 euro, cosa vi è cambiato nella vostra vita? Niente. Ma 10 euro, si mette al 100.000 e è cambiato qualcosa invece. Quindi, sono una miniera d'oro letteralmente. Perché succedono a volte queste cose? Succedono per il semplice fatto che queste meme coin vengono lanciate e poi, a seconda di quanta è la quantità di persone che vogliono andare a fare soldi, scoppiano. Scoppiano. Può esserci un grande miliardario dietro, può essere Bill Gates, può essere Elon Musk, può essere chiunque. Che basta che faccia un tweet su una meme coin che ha in giro, non lo so, metti un trilliardo di token, ok, ha un market cap di 10.000 euro, in una notte il market cap va a 50 milioni di euro, sono stati comprati quasi tutti i token e chiaramente il valore è salito, per chi li ha comprati al valore di nulla, il valore magari è salito del 100.000%, un milione per cento. Quindi ha fatto un per 10.000, ha fatto un per centomila, è pieno di coin così in giro. Io quello che vi consiglio appunto è Phantom. Voi cercate su Google, Phantom Wallet. Vi rimanderà appunto sull'applicazione di Phantom, scaricabile da iOS oppure da Android. Voi ve la scaricate, non è altro che un wallet dove potete andare a tradare, dove potete andare ad acquistare più che tradare queste coin più disumane che altro. Vi farà poi collegare Coinbase oppure Stripe, ma Stripe è un pochino più complicato per chi è in Italia perché ha delle limitazioni, quindi io vi consiglio Coinbase che funziona molto bene. Vi rimanderà su Coinbase dove voi con carta di credito acquistate o Solana o Ethereum o Bitcoin, una di queste tre che sono le tre major crypto, ok, quindi le tre più importanti. Quindi le acquistate su Coinbase. Dopo qualche giorno, secondo te la cifra, più la cifra è piccola più ci vuole, se voi comprate, non lo so, 100 euro, 500 euro di Bitcoin, di Solana, le avrete disponibili dopo pochissimi minuti. Una volta che le avete disponibili al trasferimento andate su Phantom, ok, ma poi faremo un video tutto dettagliato al riguardo dove andiamo a far vedere proprio tutti gli screen di come ho fatto, e di come continuo a fare perché sto appunto portando avanti anche le memecoin. Quindi, ricapitolando, voi andate su Phantom, una volta che avete creato ovviamente l'account Coinbase, una volta che avete con la carta di credito o Paypal avete comprato magari, non so, diciamo cifra tonda, 1000, 1000 euro di Bitcoin, ok? Andate su Phantom, copiate il vostro indirizzo wallet, che dovete andare sulla, ci sono quattro voci praticamente, invia, ricevi, ricevi, vi darà un codice lunghissimo di, non so, 50 caratteri, tipo 100 caratteri, alfanumerico, quindi sia numeri che lettere, voi lo copiate, lo andate a incollare, andando su Coinbase, invece mettete invia, non ricevi, invia, metti il destinatario che saresti tu, quindi metti quel codice che hai copiato e automaticamente avrai collegato Coinbase a Phantom, in modo tale che poi non dovrai più rifarlo, sarà automaticamente collegato, anche per il preliero, ma adesso ci arriviamo, tu invii i tuoi Bitcoin, i tuoi Solana, i tuoi Ethereum, su Phantom, una volta che sono su Phantom, trasferimento immediato, ci vuole praticamente uno o due secondi, una volta che sono su Phantom, li puoi scambiare, perché ovviamente devi scambiare, non soldi, ma una valuta, una criptovaluta che abbia un senso, che sia chiaramente non istituzionalizzata, ma comunque ben supportata, la puoi andare a cambiare con tutte le MendeCoin che vuoi, e questa è la cosa bella, perché sono tutte MendeCoin che invece non trovi su Bybit, su gli altri exchange, invece su Phantom le trovi, ok? Sono quelle non regolamentate, sono quelle che fanno quei per 10.000 così a caso, quindi una volta che sei lì, ti cerchi quella che ti interessa, scambi i tuoi 1000 dollari, pure di meno, di Bitcoin, quindi 1000 dollari di Bitcoin sarà, avrai un 0,01 Bitcoin, lo scambi in cambio di, non lo so, tipo 10 miliardi di, ve ne dico una a caso, TOD, TOD è una cripto che vale 0,8, 0,2, te ne prenderai 10, forse anche 100 miliardi di quei token lì, e aspetti, ti basta che cambino di due zeri, i tuoi 1000 sono diventati come quella magia 100.000, basta che cambi due zeri, due zeri, mille diventano 100.000, quella magia con lì vale sempre niente, vale meno di un milionesimo di centesimo, ma tu invece hai 100.000 euro, cioè capite la genialità di questa cosa qua, cioè la semplicità di questa cosa qua, può anche non succedere, ma alla lunga se uno ne copre tante, prima o poi succede, semplicemente è come scommettere il superenalotto, ma anzi che una probabilità su 600 milioni ne hai una su 50, quindi se copri 50, prima o poi capita per forza di cose, in matematica, e poi come si fa il preliero? Semplicissimo, la riconverti, quella cripto inutile lì, la riconverti in bitcoin, ethereum o solana, adesso però ti darà quel corrispondente di soldi, quindi se hai fatto 100.000 euro ti darà praticamente quasi un bitcoin e2, un bitcoin e3, comunque poco più di un bitcoin, ti darà il tuo bitcoin e poi da lì allora lo scaricherai, lo trasferirai su coinbase, su coinbase bonifico, soldi su carta, semplice, paro paro ovviamente, la parte difficile è che trovate qualcosa che vi faccia una moltiplicazione del genere, ma deposito e prelievo è la cosa più semplice che possa esistere, è assolutamente semplice, voi magari direte, eh ma tu l'hai fatto un po' semplice, no, è semplicissimo, ve lo posso assicurare, e ci si può guadagnare tanto, 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 perché se andate a coprirle tutte quelle più bizzarre, ok, quelle più senza senso, prima o poi una esplode, e se prima o poi una esplode, chiaramente andate a farci una barcata di soldi che voi non potete concepire, una barcata di soldi anche senza senso, perché effettivamente non è che stai finanziando un progetto che abbia un senso, semplicemente così, è come se fosse la scommessina, quindi, zero to million, avete due o tre mila euro, io 500.000 su quelli ce li metterei, perché mal che vada, di mezzano, ma è difficile, perché comunque poi prima o poi una almeno il 100-200% la fa, quindi mal che vada proprio 500 vi diventa un 200-300%, benché vada, vi posso diventare 1.000-2.000 nel giro di qualche settimana, se proprio vada lì o... inutile dirlo, vi comparate 3 se a bar e me ne regalate uno, no, comunque quindi veramente, fatelo perché può funzionare.